Caratterizzato da forme cubiche ed angolari, il miscelatore monocomando da lavabo GROE AeroCube è particolarmente indicato per gli amanti di un look cosmopolita, dalle linee decise e anticonvenzionali. L'alta qualità della cartuccia in ceramica GROE Silk Move garantisce una leggerezza e fluidità di comando superiori e durevoli nel tempo. Mentre la tecnologia esclusiva GROE Starlight dona la cromatura, ultra resistente alle abrasioni, splendore e lucentezza inalterati anche a distanza di anni. Il miscelatore è inoltre dotato della tecnologia ecologica GROE EcoJoy, capace di ridurre il fabbisogno idrico ed energetico fino al 50%. GROE EuroCube si esposa alla perfezione a lavabie e accessori dalle forme rettangolari marcate e dona al vostro bagno un aspetto distinto e lineare.